Ciò che è accaduto domenica al termine del match di eccellenza tra Ginosa e Racale ha comprensibilmente sollevato tante polemiche. Al triplice fischio del direttore di gara, un calciatore del Racale e un componente dello staff sanitario del Ginosa hanno acceso una vera e propria zuffa, che ha ben presto visto protagonisti anche altri calciatori e non solo. Entrambe le società, sui rispettivi canali ufficiali, hanno provato a fare chiarezza su quanto accaduto, chiaramente con due versioni dei fatti differenti. Ai nostri microfoni sono dunque intervenuti i due presidenti, prima Gianluca Catucci del Ginosa, poi Francesco Cimino del Racale. Da quello che ci ha detto mister Passariello a fine gara e il massaggiatore di Tonocco al gol del pareggio, il Racale ha esultato vicino la panchina del Ginosa, la panchina nostra, e quindi Almeira insieme ad alcuni calciatori, con dei gestacci in quel momento, forse presi dall'euforia del gol o volevano chissà cosa far vedere, hanno fatto dei gesti che non è piaciuto alla panchina naturalmente. Il massaggiatore si è avvicinato a Almeira dicendogli solo che poteva evitare di fare quei gesti, poi lui poteva far scivolare tutto e andare via perché la partita era stata pareggiata merediatamente, non succedeva quello che è successo. Mi dispiace e non comprendo come mai il fisioterapista abbia avuto il pensiero invece poco elegante e non consono di avvicinarsi, spintonare il ragazzo. Il ragazzo trovandosi in disagio ha avuto una reazione togliendogli il cappellino per dire e basta lasciami perdere. Se non che il fisioterapista ha dato un colpo sul viso al ragazzo e gli ha con la mano stretto la gola. A quel punto il ragazzo ha reagito per divincolarsi, dopodiché è successo il finimondo. Io spero innanzitutto che il fisioterapista possa rendersi conto del fatto che si è lasciato andare a certe circostanze che avrebbe potuto farne a meno e il mio calciatore sicuramente sarà disponibile a stringergli la mano e a chiudere questa pagina che non è di calcio ma che è fuori dal calcio e che fuori dal calcio dovrà restare.